Ecco, oggi è il 4 maggio e andiamo a vedere Tamachan che è un gatto che è il capo stazione, anzi il Super Station Master del capolinea di questa linea. Salute! Ci saranno tanti treni tra cui il Tamadensha e poi altri che ho scoperto solo oggi, quindi siamo pronti per partire. Visto che si tratta di treni, visto che si tratta di gattini, capistazione e tutti questi treni sono iper colorati, bellissimi per bambini ma anche per gente come me a cui piacciono queste cose, sono super eccitato e non vedo l'ora. Grazie a tutti. Abbiamo preso un biglietto giornaliero, quindi possiamo fare tutte le corse che vogliamo all'interno della zona disegnata, che è questa. Adesso siamo partiti da Wakayama, andremo fino al capolinea. E' questo? E' buonissimo! Quindi come dicevo, arriveremo al capolinea, poi da là magari torniamo indietro col Tamadensha. questo è l'Umeboshidencia. 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 Ah, il Tamadensha. Questo è quello che prenderò successivamente. Ok, queste calze sono carinissime e le vorrei, ma sono microscopiche da Super Station Master. qui c'è il Tempietto Tama. L'Umeboshidencia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un simpatico signore della stazione mi ha regalato queste card che sembrano delle vecchie schede telefoniche di tutti i treni. Questo è omucha densha, ichigo densha, umeboshi densha, tamadensha. Gli acquisti. Matite. Un regalo per qualcuno che lo riceverà prima di vedere questo video. Onorable Eternal Station Master Tama. Il supremo. E poi un clear file molto carino. Il super kawaii tamapun. Questo è l'ultimo, bello grosso. Lingue di gatto. Il super kawaii tamapun. 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 E poi c'è Doraemon. Che non c'entra nulla. Ma vabbè. E gli uomini in giallo che salutano. Quella seguida. Il super kawaii tamapun. E' ancora un vecchio sistema di fregatura con la manopola laterale. Stiamo andando di fretta perchè non c'è tempo per prendere l'omociadencia. E' o che bello, glieli ruberei tutti. Stiamo andando nel tempio delle gambe e dei piedi. Vediamo se riusciamo a prendere l'omociadencia al ritorno. Perchè non ce ne sono più fino alle 6, ma adesso sono le 3. Niente, stiamo tornando indietro perchè il tempio non si trova. E' la prima volta che compro questa roba. Vediamo se sia buona o se faccia schifo. Ah sì, questo è il Yuzuremon. Adesso proviamo questa roba. L'odore già è qualcosa di... Ecco, questo è già molto più buono. Sì, quale vuoi? Yakitori. Questo c'ha un odoraccio incredibile di caramella, caramella fintissima chimica. Sì, c'è un odoraccio. Siamo saliti ancora sull'umeboshi densha, quindi l'omociadencia me lo vedrò solo dalla stazione perchè adesso bisogna andare in un altro tempio. E intanto continuo a bermi sta roba anche se... Sembra di bere chili di zucchero. Mezzo disciolto neanche completamente. Intanto che aspetto faccio anche un po' il pirro. Un altro station master. Siamo arrivati all'Hidakiso Jinja. Dolce da Dolce. Ichigo daifu. Buonissimo. Sì, bellissimo. Sembra buonissimo. Sì, buonissimo da. Da, 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 da... Suoni molto spirituali. Sì, buonissimo da. 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 Ecco, questa è la versione ancora imbustata. Abbiamo comprato l'acqua. A quanto pare lì nella cittadina di Hidakiso coltivano le fragole, quindi questo è proprio del posto e è molto buono. L'abbiamo comprato lì proprio alla stazione. L'abbiamo comprate lì proprio alla stazione. Quindi se ci passate questo è il nostro ossume. Poi ho il consiglio di cosa mangiare se si è lì. E adesso me lo magno. E siamo tornati a Wakayama con Lomucha Densha. Guardalo anche qui in tutto il suo splendore. Bello, 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 bello. Bello, bello. C'è un challenge su questa linea. Vogliamo raggiungere questo numero di persone e per ora invece sono qui. Quindi diciamo, beh, gamba re. Buono! Sono molto buono! E adesso ve l'ho mangiato tutto! Buonissimo! Poi la fragole è freschissima. Qua si vede ancora meglio. Inolora, geta! Chiappone! E ci vuodai! Ah! E? 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 E?